Il mercoledì delle ceneri precede la prima domenica di Quaresima, quindi i cattolici sono tenuti a far penitenza e osservare il digiuno e l'astinenza dalle carni. O meglio, così si faceva un tempo. Una volta il mercoledì delle ceneri, eserà l'unico giorno dell'anno, forché feste comandate chiaramente, dove macerie e euganigherie eserà sera e completamente. Quindi quel giorno, diciamo così, per i bagordi del caneval, tutti quanti maniava de magro e anzi gheggera anche a consuetudine del digiuno. E' già una giornata di digiuno, tanto che i fioi, per esempio, a mattina andava a scuola, però è un desè, i veniva a portare in cesa, dove, cioè a messa, gheggera l'imposizione dei ceneri. Ora, ste ceneri, non inserì altro che l'ulivo benedetto portà a Pasqua dell'anno prima, che si sta a brusà e quindi fatto cenere in attesa del nuovo ulivo per la domenica dei palmi. Oggi non è più così. E il timore è che le nuove generazioni non vengano a conoscenza della tradizione, che perdano una parte della loro identità mano a mano. Finché che se i nonni, che può spiegare i nevodi, qualche genere tradizione della volta, questo se può anche tramandarlo. Ma purtroppo i nonni, o se in casa è riposo, o, diciamo così, non viene più sfruttati per questi so ricordi, ora è nuove generazioni e restarà, diciamo così, con un tocco di buio per quanto riguarda la tradizione Venezia.